La Marina Militare concede alle telecamere di Canale 85 l'accesso al presidio ospedaliero Covid di Taranto, uno dei tre centri a livello nazionale, gli altri al Ceglio di Roma e all'Ospedale Militare di Milano. Attualmente sono ricoverati 13 pazienti Covid e la struttura della Marina fornisce così un importante contributo alla ASL ionica durante questa emergenza Covid. Ed anche dal presidio militare arrivano le prime dimissioni di pazienti in tutto 5 nei primi giorni di dicembre. Un ottimo risultato se si considera che i primi pazienti positivi sono giunti qui il 23 novembre scorso. Come si è trovata qui queste cure militari come le giudica? Buonissime, molto attenti perché se avevo l'ossigeno staccato venivano e mi dicevano signora deve mettersi l'ossigeno. Io molte volte lo toglievo per andare in bagno però poi tornavo e mi dimenticavo. Però loro erano molto attenti, venivano e dicevano signora si deve rimettere l'ossigeno e mi hanno curato ecco. Molto bravi, molto molto bravi. Con il supporto di attrezzature all'avanguardia il personale sanitario del nosocomio militare opera con medici, infermieri e tecnici della Marina, anche dipendenti delle altre forze armate, con il contributo di infermiere volontari della Croce Rossa, con grande senso dello Stato e delle istituzioni. Si sta operando con dedizione e spirito di sacrificio. Sinergia con quelle che sono le strutture sanitarie locali e su input anche della locale ASL e della direzione della locale ASL ha dato a disposizione 20 posti letto per ricovero di pazienti Covid. Avete avuto anche casi piuttosto complicati, complessi come una donna di oltre 90 anni che siete riusciti a negativizzare e adesso sta bene? Sì, i pazienti che sono arrivati al centro ospedale militare sono di diversa tipologia, di diversa età, fino anche a un paziente ultranovantenne che però ha avuto un decorso estremamente favorevole e quindi è stata dimessa negativizzata e inviata in un centro di riabilitazione. La marina militare si conferma ancora una volta a sostegno della gente di Taranto e della sua provincia, ma non solo dell'intero meridione. Adesso questa attività che stiamo facendo fa seguito a quello che è già un trend degli ultimi anni e ci auspichiamo anche che rappresenti anche un input per andare avanti anche nel futuro per mettere ancora di più a disposizione della società civile quelle che sono le nostre risorse.